Siamo con il Cardinale Angelo Comastri, arciprete emerito della Basilica di San Pietro, per parlare della centralità del Santuario di Fatima, meta di tanti pellegrinaggi in occasione della GMG di Lisbona. Eminenza, intanto grazie per averci aperto nuovamente le porte di casa sua. Ben volentieri. Lei come guarda Fatima in queste ore? Io di Fatima ho un ricordo straordinario. Il 13 maggio dell'anno 2000 ebbi l'emozione, dico emozione, di accompagnare Giovanni Paolo II a Fatima. Fu lui che mi volle con sé, allora era Loreto. Mi arriva la telefonata. Il Papa vuole che lei vada a Fatima con lui. Veramente per me fu un'emozione grandissima. Durante il viaggio a Giovanni Paolo II non parlò quasi mai, sempre raccolto. Arrivati a Fatima, la grande novità, anche le grandi emozioni per tutti, il Cardinale Sodano, che era in viaggio ma non disse niente, lesse la terza parte, il segreto di Fatima. Quella parte in cui Solucia racconta che la Madonna, il 13 luglio del 1917, fece vedere come un film, un film della storia della Chiesa nel secolo scorso. Ed era una grande processione preceduta da un uomo vestito di bianco e camminavano, camminavano in mezzo a cadaveri, in città distrutte, camminavano e salivano una montagna e in cima c'era una croce. L'uomo vestito di bianco viene colpito, cade, sembra che muoia. È chiaro che Giovanni Paolo II ci ha riconosciuto la sua vicenda. Ecco perché diceva sempre la mia vita è legata a Fatima. Tant'è vero che dopo il 13 maggio 1981, giorno dell'attentato, il Papa volle che gli portassero la terza parte del segreto e disse chiaramente «Mente una mano assassina sparava per uccidermi, una mano materna mi ha fermato sulla soglia della morte». Fatima le vicende del secolo scorso l'attentato a Piazza San Pietro. Ma se gli uomini non ci convertiranno, non smetteranno di offendere Dio, alla fine del pontificato di Pio XI, che non sapeva niente, quindi è letto nel 1922, alla fine del pontificato di Pio XI scoprirà una guerra peggiore di quella che sta per finire. E attenti, disse la Madonna, quando vedrete una notte illuminata a giorno, quindi una grande aurora boreale, quello è il segno che la guerra sta per arrivare. La misura è colmata. 25 gennaio 1938 tutta l'Europa fu illuminata a giorno, una notte, l'aurora boreale. Possiamo dire un fenomeno anche normalissimo per certi aspetti, ma quella era una visa. 1938-1939 scoppia la seconda guerra mondiale. Ma la cosa impressionante è questa, ma perché la Madonna ha collegato la guerra ai peccati. Questo è fatto veramente da riflettere. Ma la Madonna conosce bene la scrittura. Isaia, poiché voi rifiutate questo avvertimento di Dio, convertitevi, e confidate nella vostra perversità, voi diventerete come un muro pieno di crepe che impervisamente crolla. Ma peggio ancora, questo a me mi fa venire il miribili tanto a dirlo, è il profeta Geremia che si rivolge al popolo dopo averlo invitato alla conversione e dice, questo popolo ha un cuore indocile e ribelle. Si voltano indietro e se ne vanno e non dicono in cuor loro, temiamo il Signore nostro Dio che elargisce la bioggia di autunno e quella di primavera a suo tempo ha fissato le settimane per la messe e ce le mantiene costanti. Ma, ma, è scritto, eh? Le vostre iniquità hanno sconvolto questo, anche le stagioni, e i vostri peccati tengono lontano da voi il benessere. Perché? Perché Dio è l'elemento di equilibrio del mondo. Ogni peccato è una picconata che noi diamo all'opera di Dio. Chiaramente la creazione si ribella, reagisce, ma siamo noi. Siamo noi che ci puniamo con le nostre mani. La Madonna a Fatima ce l'ha ricordato. Ecco perché è tanto importante meditare il messaggio di Fatima, perché tutto sommato è meditare le scritture. Qual è la sua speranza nel vedere questa massiccia mobilitazione dei giovani? Questa è una cosa bella, ma, attenti, non basta radunarsi, bisogna ascoltare, raccogliere il messaggio. Oggi molti giovani pensano che la libertà consista nel fare quello che si vuole. Non è vero. La libertà consiste nel dire un sì. La Madonna è la creatura più libera perché ha detto i sì più importanti in tutta la storia. Conciperai un figlio, orarai la luce. Come? Lo Spirito Santo scenderà su di te. Un prodigio veramente incredibile. Eccomi, sono sempre il Signore. Avvenga. Giovanni Paolo II commentò. Mai tanto di peso come allora da un sì. I sì di una creatura. Ebbene, io vorrei dire a tutti i giovani, guardate che anche per ciascuno di voi c'è un progetto. Io ero a Toronto nel 2002, giornata mondiale della gioventù. A conclusione Giovanni Paolo II disse, cari giovani, non siate come le lumache che lasciano dietro di sé soltanto lasciagli un po' di bava. Basta una pioggerella e tutto viene cancellato. Lasciate dietro di voi un solco di bene. Quanta gente oggi rassomiglia a queste lumache che lasciano soltanto un po' di bava. Non voglio fare i nomi. Senta, qual è invece il messaggio che la Madonna rivolge agli adulti e alla Chiesa? Dobbiamo prendere sul serio il Vangelo. Mare Teresa diceva spesso, il Vangelo è vivibile ed è vivendo il Vangelo che la vita si illumina. Mi viene in mente Indro Montanelli, l'ho conosciuto. Indro Montanelli è morto nel 2001. Grande giornalista tra l'altro, anche simpatico. Montanelli prima di morire disse, a me la mancanza di fede mette dentro tanta malinconia. Sento che mi manca qualcosa di essenziale, qualcosa per la quale avrei dovuto sacrificare tutto il resto. Peccato l'ho capito soltanto ora. E disse anche, se devo chiudere gli occhi, senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa ho dovuto fare su questa terra? Voleva la pena capirsi gli occhi? Quanta gente oggi si trova in questa condizione di Montanelli. La vita è un progetto di Dio. Dobbiamo scoprire questo progetto e dire il nostro sì. E questo è il modo per essere felici e lasciare dietro di noi un sorco di bene. Cosa si sente di consigliare a quanti visitano questo luogo per la prima volta? In primis pensiamo ai ragazzi. Secondo lei che cosa devono portare assolutamente nel loro zaino? Io direi, il peregrinaggio è una cosa bella. Visitare un santuario è una cosa bella. Pregare in un luogo dove la Madonna è apparsa dal 13 maggio al 13 ottobre, dove tra l'altro il 13 ottobre fece un miracolo impressionante, il famoso miracolo del sole. Assistettero tra le 60.000, 70.000 persone. Eppure non tutti credettero. Qualcuno disse che poteva essere una suggestione, una suggestione per 60.000 persone, ma che siamo fuori di testa? Per dire, puoi anche andare in pellegrinaggio, andare anche a Fatima, ma devi aprire il cuore. Il cuore è attento al messaggio, attento a quello che la Madonna ha detto, per ritornare poi a casa sta dicendo, ora voglio iniziare una vita più coerente, una vita più cristiana. Pascal, tra l'altro sono 400 anni da nascita, diceva, non esiste una persona più felice di un vero cristiano, perché ascoltando Gesù noi camminiamo nella via della gioia. Fatima, è anche una tappa del viaggio di Papa Francesco in Portogallo? Il programma prevede un momento molto semplice, un giro in Papa Mobile e poi tutto ruoterà attorno alla preghiera del Rosario. E questa è una cosa bella, il Rosario è una preghiera meravigliosa, è un pellegrinaggio dentro la vita di Gesù accompagnati da Maria, ci potesse una guida migliore. Ed è bello che il Papa e i giovani del mondo si raccoggano lì per pregare il Rosario. Il Rosario è una spinta che noi diamo alla storia, è uno spazio che apriamo a Dio perché possa intervenire e raddrizzare i nostri sentieri. Lei è molto legato alla Madonna, ha qualche altro ricordo personale di Fatima? Il ricordo più bello è stato quello della vista con Giovanni Paolo II. Io ricordo che l'occasione aveva accanto a me, sotto la pensilina, sua Lucia. E ricordo che la guardavo spesso, non si è mossa al momento, nel suo mantello la carmelitana, sta sempre in preghiera. Alla fine ho chiesto a una suora, ma sua Lucia cosa dice? La suora mi ha fatto vedere una trascrizione, la conserva ancora, di un messaggio della Madonna nel 1987. E' hanno passato i 70 anni dell'apparizione di Fatima. Sua Lucia chiese alla Madonna, Madonnina, ma quando si compiranno queste parole? Il mio cuore immacolato alla fine trionferà. La Madonna rispose, figlia mia ricordati che in una guerra non fa tutto il generale. Devono anche i soldati fare la loro parte, come per dire aiutatemi, io voglio farvi del bene. Gesù mi ha detto dalla croce, donna ecco tuo figlio, che sul figlio siamo tutti noi, ma se vogliamo fare... la Madonna fa parte della madre, se vogliamo fare parte dei figli, ascoltiamo la madre, ascoltiamo un messaggio di Fatima. Un'ultima considerazione, il santuario di Fatima, come dicevamo, è legato alle apparizioni. Questo è un tema che, al di là di Fatima, è diventato delicato, spesso controverso. Mettiamo nelle apparizioni, io penso, guarda, 1806, Napoleone abolisce in Francia la festa dell'Assunta perché gli dava fastidio il Magnificat, nel quale la Madonna dice, gli rovescia i potenti elettroni e lascia gli umili. Ah, chiaro mio, questo non andava giù. 1806, 1886, mentre sente il canto del Magnificat nella cattedrale di Notre Dame a Parigi, Paul Kolder casca in ginocchio e dice come è la vita, come è bella la vita dei cristiani, come è bello il Magnificat. Due effetti completamente contrastanti perché è l'atteggiamento del cuore che conta. Se il cuore è chiuso possiamo anche accendere mille luci, ma gli occhi sono chiusi e non vedono niente. Grazie Eminenza per le sue parole. Grazie a voi.